A me non interessa francamente il discorso di Gentiloni perché è un refrain che ascoltiamo spesso, i governi si avvicennano, cambia solo qualche volto e stavolta neanche quello. Il governo attuale rivendica la continuità sulla strada riformatrice, non vi convince? Quindi la continuità sulla bocciatura che i cittadini hanno espresso attraverso il voto referendario, questo è gravissimo, se è stato addirittura espresso il discorso di continuità significa che in qualche modo la volontà popolare viene dimenticata immediatamente perché si continua con qualcosa di bocciato dagli elettori. Ecco onorevole, voi questa sera non sarete in aula a votare la fiducia, che cosa avete immaginato? Noi vogliamo continuare a stare vicino al popolo, alla gente e metteremo in campo ogni iniziativa democratica per dimostrare che non siamo all'interno del palazzo chiusi ma siamo sempre vicini alle piazze e alle persone. Dunque cosa farete stasera? Beh, sicuramente non saremo in aula. Pensate di uscire qui in segno di protesta? Beh, faremo delle iniziative sicuramente a contatto con la piazza, con l'esterno del palazzo. Ma questo avventino paga a suo avviso per rasserenare il clima così come aveva chiesto anche il capo dello Stato? Noi siamo molto sereni e tranquilli, il problema non è la serenità o l'avventino, il problema è che la Costituzione parla di sovranità popolare, del corpo elettorale che deve decidere l'impianto, le persone che devono essere rappresentative. Noi questo chiediamo, non si tratta di essere isolati, si tratta di chiedere rispetto, è diverso. Ecco, onorevole, il Presidente Gentiloni ha parlato di un confronto politico che è degenerato in odio e post verità. Vi sentite in qualche modo citati? No, io non penso proprio che possa avercela con una forza politica importante come il Movimento 5 Stelle che incarna ed interpreta le istanze dei cittadini, non è possibile che possa avercela con noi. L'odio è all'interno di un partito democratico distrutto che è aggrappato alle poltrone e quindi si fa la guerra interna e fratricida, non appartiene al Movimento 5 Stelle. Legge elettorale dalla Lega alla minoranza bersoniana spingono sul Mattarellum, i centristi Forza Italia sul proporzionale, voi quale linea tenete? Noi abbiamo una nostra proposta di legge elettorale, dopodiché in questo contesto bisogna aspettare la decisione della consulta, sulla base di quel verdetto si corregge ciò che bisogna correggere e immediatamente tornare a votare.